Questa protesta nasce dal malcontento che c'è nelle campagne, dai disagi che viviamo tutti i giorni nelle aziende agricole, da una burocrazia che ci sta soffocando. Il primo motto di questa protesta è basta burocrazia. Ci siamo coordinati con altre regioni d'Italia e abbiamo deciso di far partire tutti assieme la protesta il 30 gennaio. Manifestiamo soprattutto per rivendicare la figura degli agricoltori nella società. Siamo produttori di cibo e non gente che inquina. Siamo persone che tutti i giorni dedicano tante ore al lavoro nelle campagne e chiediamo dignità. Una politica agricola comunitaria che ci dice di non coltivare, che ci tratta da gente che inquina, che ci dice di coltivare diversamente, non ci lascia libertà di impresa e poi vediamo che apre ai cibi sintetici e ci viene anche il dubbio che ci sia un disegno dietro che voglia portare la società ad altre cose. Grazie a tutti.